E lui com'è? Educato, intenso, intelligente, un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro. Soprattutto lo sport, se c'è qualche volta qualche buon film, mi fa piacere. A cosa deve il suo successo? Io ho insegnato vari anni diritto civile, quindi Giuseppe Conte è avvocato. Non c'è molto da sapere su di me, insomma mi guardi. La guardo poco perché sono un po' stanco. Sarà molto noioso? Dipende, dipende dalle questioni, dalle situazioni, dipende anche dalle rispettive competenze. Farai l'amore con me adesso? Non esageriamo. Illuminami allora. Niente regole, niente più segreti. Io nonostante voglio dire adesso l'abitudine del professore, l'avvocato, però ho un'attitudine a rapportarmi in modo molto diretto e schietto. Cos'è questa storia? La Merkel è una persona di grande affidabilità. Ci sei andato a letto? Non ho detto questo. Ho trovato scandalo sul comportamento del presidente del consiglio. È par normale che il sussurri alla cancelliera tedesca, dammi una mano, dammi dei consigli. Ciao, fiorellino. Ciao, fiorellino. Ciao, fiorellino.